Per diminuire i costi di esercizio abbiamo allungato gli intervalli di cambio dell'olio quello del motore passato a mille ore e quello della trasmissione a 2000 ore. I serbatoi dell'olio dei servizi e dell'olio della trasmissione sono separati i livelli sono di facile individuazione quello dei servizi grazie agli occhi ciechi posti sul lato destro del trattore mentre quello della trasmissione posto sul posteriore. Anche l'accesso ai filtri della cabina è semplicissimo è sufficiente smontare i due pomoli e si ha subito accesso alla cartuccia per fare l'ispezione ed eventualmente la pulizia. Sul lato sinistro del trattore sotto la scaletta possiamo vedere una presa di aria compressa per agevolare la pulizia della cabina o del radiatorio dei filtri. La nuova serie 7 TTV può vantare un serbatoio monoblocco da 505 litri e 32 litri di adiblu.